se ami le vongole ma non sai come pulirle oggi lo facciamo insieme per prima cosa bisogna scartare le vongole rotte i frammenti di guscio e quelle già aperte adesso veniamo alla parte più importante quando utilizzo le vongole veraci batto ogni vongola con il taglio rivolto verso il basso su un tagliere in modo da verificare la presenza di sabbia nella vongola ovviamente la vongola con la sabbia va scartata perché aprendosi in cottura rovinerebbe il piatto una volta controllate le vongole vanno sciacquate sotto l'acqua fredda corrente e poi lasciate in ammollo perché rilasciano i sedimenti e le impurità metto le vongole in un colino che posiziono in una ciotola riempio l'acqua fredda filo con le vongole e aggiungo del sale grosso dopo 30 minuti ecco sul fondo i sedimenti e guarda come opaca l'acqua la butto via metto di nuovo il colino nella ciotola con acqua e sale e ripeto questa operazione finché l'acqua risulta limpida e pulita ora le vongole sono pulite ed ora spaghettata con le vongole per tutti